Una persona grande ma allo stesso tempo semplice, una persona che mi ha insegnato veramente tanti valori, tanti valori belli e l'ha insegnata alle nostre figlie, quelle che poi io cercherò di portare avanti. Che dire, è tutto, io dico che dopo Paolo Rossi si sopravvive, ecco questo, quindi cercherò di fare questo e di portare avanti quello che lui ha fatto, i nostri progetti e di crescere soprattutto le nostre figlie. Era una persona che sapeva parlare allo stesso modo sia con i capi di Stato che con le persone che incontravamo al supermercato. Quindi questa era Paolo, la sua grandezza.